Benvenuti in Claude Melon. Claude Melon è un marchio svizzero di orologi di lusso che ha fatto del movimento scheletrato la propria specialità. Fondato nel 2010 a Vallée des Joux, uno dei distretti dell'orologeria più famosi al mondo, l'azienda è nota per la sua capacità di creare orologi di altissima qualità utilizzando tecniche artigianali tradizionali. Il marchio si concentra sulla produzione di orologi con movimenti scheletrati, che permettono di ammirare i meccanismi interni dell'orologio in funzione. Questa tecnica richiede una grande maestria e attenzione ai dettagli, e Claude Melon ha saputo eccellere in questo campo, diventando uno dei leader mondiali della produzione di orologi scheletrati. La qualità artigianale è al centro della filosofia di Claude Melon, che si avvale di tecnici altamente qualificati per realizzare ogni singolo orologio. L'azienda utilizza solo materiali di altissima qualità, come l'oro, l'acciaio inossidabile e il titanio, per garantire la massima durata e affidabilità ai propri prodotti. I modelli Claude Melon sono disponibili in una vasta gamma di stili, dal classico al moderno, e spesso presentano dettagli lussuosi come diamanti e pietre preziose. La maggior parte dei modelli sono prodotti in edizioni limitate, rendendoli ancora più esclusivi e ambiti dai collezionisti. Gli orologi Claude Melon sono caratterizzati da una precisione e una affidabilità senza pari. I movimenti automatici e a carica manuale garantiscono una precisione assoluta, permettendo di tenere il tempo in modo impeccabile e di usufruire di tutte le funzioni dell'orologio con la massima facilità. In conclusione, Claude Melon è un marchio svizzero di orologi di lusso che rappresenta il meglio dell'orologeria tradizionale. I suoi orologi scheletrati sono una vera e propria opera d'arte, caratterizzata da una precisione e una qualità artigianale senza pari. Se sei alla ricerca di un orologio di lusso esclusivo e di altissima qualità, Claude Melon è sicuramente una delle migliori scelte sul mercato. Grazie a tutti.